Sono un videomaker e sono un pescatore. Amo la pesca e il mare. Mi piace fare riprese video creando effetti di impatto. Mi piace guardare la gente che pesca e rispetta il mare, i fiumi e i laghi come li rispetto io. È grandioso vedere come sono migliorati sensibilmente i pescatori in questi ultimi anni, come si sono sensibilizzati sull'inquinamento dei mari e lo spopolamento dei pesci. Spero nel mio piccolo di aver contribuito anch'io coinvolgendo molti i pescatori e di continuarlo a fare anche negli anni futuri. Mi chiamo Claudio Trobeano, il fondatore del telegiornale Selfcasting News.